Musica Assalto all'Eurocom di Montemarciano, la banda blocca la strada con auto rubate, lavatrici e chiodi sull'asfalto poi il colpo nell'azienda e la fuga Scoperto un presunto traffico illecito di uccelli da richiamo, sequestrati 500 volatili e denunciate 6 persone nelle province di Pesaro e Urbino, Forlice Sena e Udine L'Ucraina nella morsa del gelo parte da Pesaro, la raccolta fondi per regalare stupe a legna alla città di Kharkiv L'appello di Gulliver e degli studenti a tutta la regione, partecipate, ogni euro donato può fare la differenza Dai personaggi alle ambientazioni ricostruite con oggetti dell'epoca, lunedì sera debutta il Politeama Terra Bassa, il docufilm dedicato a Metauriglia di Fano La Candela della Pace scalda le centinaia di iniziative dei quartieri e del municipio per Pesaro nel cuore Alta 4,5 metri sarà un simbolo di solidarietà e di attenzione ai consumi energetici Giovedì 1 dicembre, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 19 È stato un assalto da film, quello compiuto nella notte a Montemarciano in provincia di Ancona dove una banda ha messo a segno un colpo all'Eurocom, azienda leader per la distribuzione di elettrodomestici Il blitz criminale è stato studiato nei minimi dettagli per cercare di rallentare le forze dell'ordine I malviventi hanno bloccato le strade d'accesso seminando chiodi sull'asfalto Inoltre hanno posizionato due auto, probabilmente rubate, sotto il ponte della Gabella mentre alcuni elettrodomestici sono stati ritrovati nei campi che circondano l'azienda Non è chiaro però se i ladri li abbiano utilizzati per chiudere i passi privati e rallentare l'uscita dei residenti oppure se siano stati persi durante la fuga Ora è caccia alla banda, gli inquirenti stanno visionando anche i filmati delle telecamere nella zona Invece è ancora da quantificare il bottino Avrebbero rubato telefoni cellulari e altri dispositivi elettrolici Ed ora passiamo alla operazione portata a termine dai carabinieri forestali che con il coordinamento della Procura della Repubblica ha portato alla denuncia di sei persone per traffico illecito di uccelli da richiamo Secondo l'ipotesi accusatoria i volatili venivano catturati in natura durante il periodo della migrazione per poi essere regolarizzati con apposizione di anelli anche infilati forzatamente nelle zampe degli animali cagionando lesioni agli arti La normativa europea e nazionale dieta la cattura degli uccelli in natura con reti o altri strumenti non consentiti E invece un indagato da quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche ha addirittura affermato abbiamo fatto 600 una volta riferendosi al numero di uccelli catturati in una sessione di uccellagione Dalle indagini durante oltre 10 mesi è emerso che i volatili venivano rivenduti ai cacciatori Potevano arrivare a 180 euro per i merli, a 200 per i tordi, bottacci ed un prezzo ancora più elevato per le cesene Nel corso perquisizioni nelle province di Pesaro, Urbino, Forlicesena e Udine sono stati sequestrati 505 uccelli, 6 telefoni cellulari, 10 e 8 parlanti e attrezzature varie come pinze, anelli, richiami elettronici e picchetti Ora i sei indagati rischiano le pene previste per i reati di ricettazione, furto gravato, alterazione dei sigilli di Stato e reati venatori E ora ci spostiamo a Pesaro da dove parte una raccolta fondi per sostenere la città di Kharkiv con l'acquisto di stufe a legna Scaldiamo il gelo di Kharkiv, con questo slogan l'associazione Gulliver insieme agli studenti del liceo Mamiani e del liceo Marconi di Pesaro ha organizzato una raccolta fondi a favore della città ucraina entrata nella morsa del freddo Milioni di persone infatti stanno rischiando la vita non solo per i bombardamenti ma anche a causa delle basse temperature Come Gulliver seguiremo sia dall'inizio della raccolta fondi nelle scuole di Pesaro l'invio dei denari a Varsavia dove padre Luca acquisterà tramite un accordo con Rao Merlen delle stufe padane in legna La Gulliver si occuperà poi del trasporto e della consegna alle famiglie Studenti, docenti e familiari sono invitati a donare un euro simbolico durante la raccolta che si svolgerà domani, venerdì 2 dicembre, nelle sedi degli istituti scolastici aderenti all'iniziativa Il nostro intento è quello di portare ciò che studiamo a scuola e ciò di cui si parla quotidianamente soprattutto in questo periodo storico nel concreto L'importante, il messaggio che vogliamo fare passare è quello di estendere questa iniziativa se possibile a tutta la regione, a più scuole possibile proprio perché non è importante l'ente che partecipa ma il contributo che concretamente come persone diamo e come studenti noi quindi abbiamo il dovere di partecipare oltre ovviamente al piacere di farlo per quanto mi riguarda Si tratta di salvare concretamente delle vite umane e di aiutare qualcuno, di aiutare il prossimo e questo è importante come persone civili nella nostra società di oggi Bellissimi i convegni che si organizzano, bellissime le scritte nella città contro la guerra ma il nostro motto, ha ribadito il presidente Boccanera, è sempre lo stesso atti non parole Anche in seguito a una raccolta fondi fatta già in precedenza abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel nostro piccolo perché è importante essere uniti anche in queste situazioni anche se non riguardano in prima persona noi proprio per far capire a tutti la nostra solidarietà e il nostro conforto nei confronti di tutti in questa situazione così devastante e tragica Queste iniziative partono dalle scuole perché le scuole sono il posto dove più di tutto si forgia una persona e si forgia il senso critico e la razionalità e soprattutto la solidarietà quindi sicuramente siamo la generazione della speranza ma è anche grazie alla vostra generazione Ed ora andiamo a Fano, precisamente nel quartiere di Rosciano dove la comunità festeggia il 25esimo anniversario dall'inaugurazione della Chiesa di Santa Maria Sentiamo Don Federico si festeggiano i 25 anni dall'inaugurazione della nuova Chiesa di Rosciano dal lontano 8 dicembre 1997 tanti gli appuntamenti dedicati già dal mese scorso che si concluderanno questa domenica che cosa ci sarà in programma? Quello del 4 dicembre è il momento conclusivo di una serie di celebrazioni che si sono svolte durante tutto il mese passato dove abbiamo voluto ricordare questo evento che è stato l'8 di dicembre del 1997 e abbiamo vissuto momenti di ricordo, di memoria, con gratitudine abbiamo cercato di incontrare anche le persone, i preti che sono passati qui in questi anni hanno avuto un momento anche per ritrovarci e domenica prossima il 4 dicembre è quel momento conclusivo che vedrà anche la presenza del Vescovo nostro che celebrerà la messa alle ore 16 del pomeriggio a cui poi seguirà un momento conviviale di festa per concludere in fraternità anche questo evento importante per le nostre comunità parrocchiali sia di Rosciano che di Centinarola perché ci ha permesso di unirci in un momento importante non soltanto per un ricordo di qualcosa del passato ma perché con gratitudine portiamo avanti quello che ci è trasmesso ma che ci serve per l'oggi Il Comando della Guardia di Finanza e la Regione Marche hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto alle frodi nell'utilizzo delle risorse del PNRR La Regione comunicherà le informazioni relative ad anomalie nonché le violazioni e le irregolarità riguardanti i finanziamenti e i contributi Inoltre Regione potrà consentire alla Guardia di Finanza l'accesso alle proprie banche dati al fine di consentire la diretta acquisizione delle informazioni utili per l'avvio e lo sviluppo delle indagini L'intesa prevede inoltre che le due istituzioni sviluppino incontri e corsi per favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori interessati E come ogni sera diamo spazio alle vostre segnalazioni una reporter di strada ci ha inviato queste due fotografie che adesso vediamo per segnalare due lampioni spenti non funzionanti in via Calamandrei a Fano Bisogna intervenire subito scrive la segnalatrice appellandosi a chi di competenza perché essendo una via chiusa e isolata facilita i ladri a compiere furti nelle abitazioni E cambiamo argomento La Fondazione Carifano ha lanciato insieme ad Argonauta e Dami S.p.A. un progetto di educazione ambientale coinvolgendo le scuole del territorio da quelle dell'infanzia agli istituti superiori I contesti in cui saranno organizzati i percorsi dedicati alla biodiversità sono Casa Archilei, il Lago Vicini, lo Stagno Urbani e Baia del Re Questa è un'altra, penso, bella iniziativa della Fondazione che va nella direzione di promuovere la sensibilità ambientale soprattutto nei confronti delle giovani generazioni Già la Fondazione è impegnata in questo settore una parte dei nostri fondi sono sempre destinati all'ambiente e questo invece è un bel progetto che anche su stimolo da parte nostra l'Argonauta ha predisposto coinvolgendo un po' tutte le scuole del territorio di riferimento della Fondazione per far visitare nei luoghi della Fondazione e anche negli altri luoghi importanti dal punto di vista ambientale gli studenti di ogni ordine grado quindi questa iniziativa che è appunto nel settore dell'ambiente vedrà tanti, tantissimi giovani che svolgono con la loro attività di studenti nel territorio di riferimento della Fondazione avere un'attività didattica privilegiata sull'ambiente frequentare e svolgere direttamente questa attività nei luoghi della Fondazione a Lago Vicini ma anche in altri luoghi caratterizzanti di questo settore come Casa Archileia, Fosso Segliore questa iniziativa è una delle tante nell'ambito del settore ambientale che la Fondazione promuove anche domani c'è la terza delle conferenze che la Fondazione ha organizzato dal titolo Terra e Clima dove verranno portate le evidenze dei dati sul clima della nostra regione Marche quindi non si parla soltanto di temi di alto profilo ma cerchiamo di trovare anche il modo di coniugarli di metterli a terra per comprendere nel nostro territorio come stanno andando le cose abbiamo già in programma una serie di altre conferenze per i prossimi mesi sempre sul tema ambientale e il 5 dicembre al Politeama di Fano verrà proiettato in anteprima il docufilm che parla della località di Metauriglia questa mattina è stato presentato alla stampa vediamo si intitola Terra Bassa ed è il docufilm promosso da Albatros 87 realizzato dalla casa di produzione Guasco di Ancona con la regia di Davide Como che parla della storia tra successi e contraddizioni della borgata di Metauriglia nel comune di Fano la proiezione vede il racconto di storie realmente accadute concentrandosi sulla nascita di questa località con riprese curate nel dettaglio e ambientazioni perfettamente ricostruite con oggetti e soggetti dell'epoca un'idea di Pia Miccoli con le sceneggiature curate da Giulia Betti Terra Bassa a intendere quello che si dice a Fano ma la terra è bassa cioè il lavoro dell'agricoltore è un lavoro faticoso dove la schiena è piegata e dove si guadagna poco quindi è un po' un titolo che vuol ricordare l'umiltà dell'origine di Metauriglia e anche delle persone, degli ortolani e pescatori che l'hanno abitata Terra Bassa perché Metauriglia è una terra bassa in senso proprio geomorfologico e spesso va sott'acqua è una terra con tanti problemi per noi questo AccuFilm è un modo come altri come le mostre, come la festa per far entrare nel cuore una storia, un'epoca e delle persone e perché si torna ad investire su questo territorio con progetti resilienti economicamente e ambientalmente sostenibili e quindi frenare quella fuga che di solito c'è dalle periferie una volta che si sta un po' meglio se uno si sente appartenente a un territorio ci rimane l'anteprima ufficiale del DocuFilm è in programma per lunedì 5 dicembre alle ore 21 all'interno del Politeama di Fano alla presenza del cast, troupe e tecnici che hanno lavorato al progetto Davide Como, lo spettatore, che cosa troverà durante la visione di questo DocuFilm? Troverete leggerezza, ironia che grazie anche al protagonista Virgilio interpretato da Victor Carlo Vitale che è il nostro narratore che viaggiando tra le epoche e viaggiando tra la parte documentaristica e la parte fiction ci racconterà la storia di questa borgata Metaurilia, una borgata ferita ma che piano piano sta rinascendo grazie all'impegno dei suoi stessi abitanti e anche da un aiuto esterno che sta riscoprendo la sua identità lo abbiamo fatto ecco con leggerezza, con ironia mettendoci anche dentro un po' di poesia almeno spero di esserci riuscito soprattutto è un documentario per le famiglie possono guardarlo anche i bambini alle varie fasce d'età e gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma celebrano il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini con una serie di manifesti d'autore gli elaborati verranno esposti da domani sia alla fabbrica urbana di Palazzo Montevecchio sia negli spazi pubblici della città come sul muro di cinta all'ex caserma Paolini dove verranno esposti ben 16 poster di grandi dimensioni una mostra molto importante per i cent'anni di Pasolini è importante perché è importante la figura storica e artistica che si va a onorare una figura eclettica sotto il punto di vista artistico scrittore, pittore, sceneggiatore, regista insomma Pasolini ha toccato tutte le arti le ha toccate in modo significativo ho raccontato un secolo le criticità di questo secolo è importante perché viene fatta in uno spazio di cultura e di arte assolutamente indipendente uno spazio civico uno spazio nato dall'intraprendenza di due ragazzi e noi siamo contenti come amministrazione di patrocinare questa iniziativa che è in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Roma quindi non potevamo che dare il nostro appoggio a questa iniziativa validissima e di alto valore il progetto Manifest è un progetto al quale stiamo lavorando da tempo già durante il lockdown con il professore Gello Caproietti con il coinvolgimento dell'Accademia delle Belle Arti di Roma e poi anche dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino e oltre a una mostra all'interno di Fabrica Urbana c'è un'importante mostra in città che potremmo considerare di street art perché abbiamo messo a disposizione per la prima volta nella città di Fano gli impianti pubblicitari di affissione a favore della comunicazione artistica per cui vedrete in varie parti della città dei manifesti senza loghi ma solo immagini e grafiche che fanno parte di questa mostra e sarà la candela della pace il simbolo del Natale pesarese l'annuncio è stato dato durante la presentazione del calendario degli eventi realizzati dai quartieri e dal municipio di Monte Ciccardo sono pronte a scaldare la città le iniziative di Natale di Pesaro nel cuore promosse dai quartieri e dal municipio di Monte Ciccardo che per sei settimane animeranno l'intero territorio comunale con centinaia di appuntamenti messi in campo da migliaia di volontari novità del 2022 sarà la candela della pace che toccherà tutta Pesaro alta 4 metri e mezzo realizzata con materiale riciclato e sostenibile la maxi candela appoggia su una base circolare dal diametro di 3 metri ci saranno degli eventi che ogni quartiere organizza e in più ci sarà una candela che inizierà dal 9 di dicembre una candela per la pace una candela che pensa anche al risparmio energetico che girerà ogni quartiere per dare appunto un segnale forte un segnale forte di unione e anche di partecipazione ma soprattutto anche di sinergia di lavoro tra tutti i loro quartieri che sono a disposizione della cittadinanza la candela gigante inaugurerà il suo tour a partire da Villa Ceccolini seguendo le date che saranno comunicate nei prossimi giorni nel 2023 poi si trasformerà nella fiaccola che farà tappa in tutti i quartieri per tornare a riaccendersi con l'avvio delle celebrazioni di Pesaro 2024 però anche tra i quartieri ci sono delle piccole rivalità e quindi la candela è proprio un simbolo che come presidenti di quartiere abbiamo voluto realizzare per dare un segno alle comunità di unità intorno alla candela si riuniscono le famiglie la candela è simbolo appunto della pace quando si fa una cena romantica la candela non manca mai e quindi un qualche cosa che potesse far capire alle persone l'importanza della solidarietà e della bontà e dell'amore e questa era la nostra ultima notizia subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire due speciali condotti da Maria Elena Delbianco il primo dedicato alla giornata regionale del commercio eco e solidale e a seguire la giornata contro la violenza sulle donne organizzate dal comune di Fano l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio e giornali insieme a Massimo Foghetti grazie per essere stati con noi arrivederci Grazie a tutti